30 aprile 1997, in piena guerra civile di tipo tribale, i seminaristi del seminario di Buta, nella diocesi di Bururi in Burundi, si rifiutarono di ubbidire agli ordini di un forte gruppo armato di ribelli Utu, ubriachi e drogati, che assaltò il seminario, imponendo agli studenti Utu e Tuzzi, di età tra i 15 e i 20 anni, di separarsi. Gli Utu da una parte, i Tuzzi dall'altra, ordinò il comandante dei ribelli. I seminaristi si erano impegnati di non rivelare ai ribelli chi tra essi fossero Tuzzi e Utu. Se lo avessero fatto, i ribelli Utu avrebbero ucciso solo i seminaristi Tuzzi. I seminaristi rimasero uniti in gruppo, come avevano deciso da tempo in nome dell'amicizia cristiana. Vennero allora massacrati a sangue freddo, con i mitra e le granate. Tra i seminaristi uccisi c'era il fratello di Pasteur Mani Rambona. Anche il seminarista Pasteur era nel gruppo mitragliato, ma non fu colpito. Si ritrovò sotto un mucchio di cadaveri, mentre il sangue degli uccisi gli colava sul volto. Intanto i seminaristi feriti o incolumi pregavano, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Invece i ribelli se ne andarono, lasciando in vita tra gli altri il seminarista Pasteur Mani Rambona. Dio ha permesso al seminarista Pasteur di rimanere in vita per poter essere sacerdote e giungere qui a Corridonia per aiutarci col suo ministero a camminare sulla via della salvezza. Il 30 dicembre 2018, nel decennale della ordinazione sacerdotale di Don Pasteur, la chiesa parrocchiale di San Pietro era stracolma di fedeli, mentre il coro e il suono dell'organo commentavano la liturgia della consacrazione. Don Pasteur è amato e stimato, come sono amati e stimati gli altri sacerdoti africani, insieme al parroco Don Fabio Moretti. Noi fedeli dobbiamo collaborare con i nostri sacerdoti, partecipando alle iniziative ed esprimendo loro i nostri consigli da laici, con amore e comprensione, e per riempire la loro intima solitudine.